Ho passato tre settimane da Outsider, queste sono state davvero molto belle, avevo quella voglia di sfidare, di entrare, di migliorare, insomma la vita da Outsider era molto più da combattente. Ciò che mi porta a casa sono tante vittorie, a prescindere dal fatto se vincerò o non vincerò, un contratto, un Ors Academy, però porta a casa prima di tutto ciò che mi aspettavo, cioè di crescere sia dal punto di vista umano che sportivo. Umano con l'entrata di Alessandro, avevo una prova per entrare, insieme a tutti gli altri sono stato prima a dire di no che non doveva entrare, se Alessandro non fosse entrato avrei fatto uno sbaglio grandissimo, invece adesso c'è un'amicizia forte e ancora da un certo punto di vista mi sento in colpa. Mi è stato affidato un puledro bellissimo e ringrazio che mi era affidato, ora siamo alla finale, come ho già detto l'altra volta, che vinca il migliore. Grazie a tutti.